è sensibile, sgasa, è al massimo pronto? non se ne accorge neanche qua è un po' di tecnica Pigi a me è un po' di tecnica Pigi guardalo guardalo vai su di terra vai su di terra vai torno indietro vai un pochino indietro vai vieni avanti piano vai scendi 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 vai hai manetta vai